C'era del resto un certo numero di persone non ancora persuase che questa peste ci fosse. E perché, tanto nel lazzaretto come per la città, alcuni pur ne guarivano, si diceva – gli ultimi argomenti di un'opinione battuta dall'evidenza sono sempre curiosi a sapersi – si diceva dalla plebe, ed ancora da molti medici parziali, non esser vera peste, perché tutti sarebbero morti. Per levare ogni dubbio trovò il Tribunale della Sanità un espediente proporzionato al bisogno. Un modo di parlare agli occhi, quale i tempi potevano richiederlo o suggerirlo. In una delle feste della Pentecoste usavano i cittadini di concorrere al cimitero di San Gregorio, fuori di Porta Orientale, a pregare per i morti dell'altro contagio, che erano sepolti là. E prendendo dalla devozione opportunità di divertimento e di spettacolo, ci andavano ognuno più in gala che potesse. Era in quel giorno morta di peste, tra gli altri, un'intera famiglia. Nell'ora del maggior concorso, in mezzo alle carrozze, alla gente a cavallo e a piedi, i cadaveri di quella famiglia furono, d'ordine della sanità, condotti al cimitero suddetto, su un carro, in nudi, affinché la folla potesse vedere in essi il marchio manifesto della pestilenza. Un grido di ribrezzo, di terrore, s'alzava per tutto dove passava il carro. Un lungo mormorio regnava dove era passato, un altro mormorio lo precorreva. La peste fu più creduta, ma del resto andava acquistandosi fede da sé ogni giorno di più. E quella riunione medesima non dovesse rifiutare poco a propagarla. In principio, dunque, non peste, assolutamente no, per nessun conto, proibito anche di proferire il vocabolo. Poi, febberi pestilenziali, l'idea s'ammette per isbieco in un aggettivo. Poi, non vera peste, vale a dire peste, sì, ma in un certo senso, non peste proprio, ma una cosa alla quale non si sa trovare un altro nome. Finalmente, peste senza dubbio e senza contrasto. Ma già ci si è attaccata un'altra idea, l'idea del beneficio e del malefizio, la quale altra e confonde l'idea espressa della parola che non si può più mandare indietro. Non è, credo, necessario di essere molto versato nella storia delle idee e delle parole per vedere che molte hanno fatto un simil corso. Per grazia del cielo che non sono molte quelle di una tal sorte e di una tale importanza e che conquistino la loro evidenza ad un tal prezzo, e alle quali si possono attaccare accessori di un tal genere. Si potrebbe però, tanto nelle cose piccole come nelle grandi, evitare in gran parte quel corso così lungo e così storto, prendendo il metodo proposto da tanto tempo d'osservare, ascoltare, paragonare, pensare prima di parlare. Ma parlare questa cosa così sola è talmente più facile di tutte quelle altre insieme che anche noi, dico noi uomini in generale, siamo un po' da compatire.